Assessore Cuzzi, il 24 aprile per Pescara sarà una giornata particolare, in serata ci sarà la gara di campionato con la Roma, una gara che comunque potrebbe riservare dei rischi di ordine pubblico. La mattina, per la mattina di lunedì, è programmato il mercato dello stadio, il mercato ambulante. Ci sarà questo mercato? Innanzitutto voglio chiarire che ad oggi noi non abbiamo sospeso alcuna attività mercatale, quindi il mercato è in programma per il 24. Non abbiamo ricevuto delle comunicazioni ufficiali, ma ci sono stati solo dei contatti relativi alla sicurezza per quanto riguarda lo svolgimento del mercato, visto che l'intera area dovrà essere chiusa anche con largo anticipo per i motivi legati alla sicurezza e all'arrivo dei tifosi da Roma. Noi però riteniamo che non si possa bloccare il lavoro in un particolare periodo, anche in virtù del ponte del 25 aprile, rispetto a una partita e soprattutto che le attività commerciali ed economiche nell'area debbano essere salvaguardate. Per queste ragioni abbiamo chiesto un incontro che si terrà domani mattina e riteniamo di poter offrire ampie soluzioni che garantiscono, da una parte, lo svolgimento delle attività mercatali come di consueto e dall'altra lo svolgimento della partita in piena sicurezza. Riteniamo però che una partita debba essere una festa e per questo vanno salvaguardate in primis le attività lavorative e poi la sera ci sarà la partita di calcio. Pensiamo che tutto possa combaciare con un po' di buonsenso e soprattutto aumentando l'impegno nei confronti della sicurezza che deve essere sicuramente salvaguardata.